Nicola! Tuo padre... Matteo, per favore, puoi andare più piano? Vai più piano, no? Tanto non ci corre dietro nessuno. Vuoi guidare tu? Ti ho detto semplicemente se puoi andare un po' più piano. Io guido così. Vaffanculo Matteo, ti ho detto ad andare piano. Giulia, per favore. Ho paura, c'è la bambina, hai capito? Hai capito? Si può sapere perché non le rispondi? Oh, ti ha parlato, perché non le rispondi? Giulia, io guido così, se non ti va bene... No! No! Fermo questo cazzo di macchina, diglielo! Fermala! Fermo questa macchina! Cazzo, accosta! Ok, ok, calma. Accosto, appena posto mi fermo. Ma che cazzo fai? Pre матchina... Paostati! Parto gasto! Marteo! Patel! Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Grazie a tutti.